Ci siamo. Eccoci insieme col Biancherosso TV Sport, con il nostro ospite Donato Ravelli, dirigente del Cus Bari. Abbiamo un amico da parecchio tempo in attesa, mi scuso con lui. Pronto? Sì, salve. Voglio ringraziare tutti quelli che ci sono messi insieme per fare qualche cosa di bello sulla paracadestro, perché non è una cosa scontata. In questa città comunque mettersi insieme per qualsiasi corso è sempre difficile. Chi sei? Sono Piero. Ho seguito il Cus Bari anche in trasferta, con un gruppo di amici. Abbiamo fatto una bella amicizia, abbiamo fatto tante trasferte, Latina, Recanati, Ferrentino, ci siamo divertiti tanto, sempre molto educatamente, addirittura pulendo il palazzetto da ogni carta dopo che noi eravamo sugli spalti. Quindi stringendo amicizie con le forze dell'ordine. Quindi vedere poi le scene dei napoletani che sono venuti a fare quel che hanno fatto. E hanno fatto lo stesso a Ferrentino, hanno fatto lo stesso a Matera, tanto è vero che ci avevano avvisato insomma gli amici di Ferrentino, di Recanati, di quello che avremmo trovato a Bari. Poi volevo chiedere una cosa, se si sta facendo qualcosa sul settore giovanile. Perché io mi sarei aspettato quest'anno un lancio di qualche giovane in prima squadra. E quindi se si sta lavorando su questo, se possiamo vedere qualcosa... Io ho fatto la domanda a telecamera è spenta, guarda, guarda a caso. Andiamo. No, si sta facendo qualcosa... È nata una nuova società che gestirà i rapporti con tutte quante le società di Bari. Per cui il primo obiettivo del CUS era quello di cercare di riunificare tutte le forze cestistiche del capoluogo. Questo è stato fatto sotto legida del Bari Basket Soul, che ormai chi viene al palazzetto sa perfettamente di che cosa parlo, perché è sicuramente una delle cose fondamentali di questa annata. Forse ancora di più di quello che può essere il campionato DNA che stiamo effettuando. Per quanto riguarda il discorso giovanile, è un discorso che stiamo facendo nascere e ripartire adesso, perché chiaramente dopo tanti anni nei quali molti giovani nostri, compresi anche i giocatori del CUS Bari, sono migrati verso squadre di Serie A, per cui Varese, Bologna, Siena, per trovare la possibilità di avere uno stimolo e una prospettiva diversa da quella che il Bari poteva proporre e soprattutto la Regione. L'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello che è già partito, è che continueremo a investire su questo tipo di discorso, per cui non sarà soltanto un investimento legato al discorso di prima squadra, ma soprattutto a creare un serbatoio che ci permetta di poter avere nel giro di 3-4 anni, dei ragazzi che possono giocare in prima squadra. Ma questo va fatto con lavoro costante, con investimenti, e soprattutto con la possibilità di far capire ai ragazzi che hanno una voglia di giocare a pallacanestro, che c'è una squadra di vertice che ti può permettere di poter arrivare a un certo livello senza dover andare a cercare altro da altre parti. Si cercherà anche di sviluppare il discorso tecnico, cercando di portare dei coordinatori tecnici di livello nazionale in modo tale da poter coordinare i nostri tecnici, perché noi vogliamo dei nostri tecnici baresi che possano fare carriera nell'ambito sia delle giovanili che di prima squadra. C'è un amico in linea, pronto? Pronto Enzo? Ciao. Ciao, sono Pasquale, saluto te l'ospite. Ciao, ciao. Vorrei fare i complimenti a questa squadra. Io mi riferisco alla pallacanestro. Sì, sì. Anche perché io da quest'anno che sto frequentando il palazzetto il pallaflorio, ho portato la mia famiglia insieme e mi sto iniziando ad appassionare, anche perché era uno sport che non frequentavo. Tutto è nato così, come tutte le cose, per caso. Io ringrazio di nuovo... Beh, guarda, sta avvenendo un piccolo evento nel TV Sport che la gente chiama e parla della pallacanestro. Stavo notando la stessa cosa. Oh no, è notato. È un piccolo evento. Sì, sì. Di solito, la pallacanestro, salutiamo l'ostri, viva la pallacanestro, è il Bari e invece oggi abbiamo una cosa che va sottolineata, va sottolineata, la gente interviene e parla di basket. Ma va detto grazie a tutti coloro che lavorano nella nostra società, perché non è una cosa nata per caso. Io sono contento perché il TV Sport ha realmente, mi ha dato più gioia che non vincere una partita, perché questo è quello che noi stiamo cercando, è quello che noi stiamo sviluppando, investendo. È un successo vero, insomma. È un successo, perché qui stiamo parlando di investimenti che grazie alla società, perché dietro di me c'è una società, a partire dal presidente del Cuspari, il dottor Renato Laforgia, al presidente della nuova pallacanestro Bari, il dottor Ronzo, all'altro dirigente storico, forse il dirigente più anziano per quanto riguarda il discorso della sezione pallacanestro del Cus, che è il dottor Ambrosi, e coloro che si sono avvicinati, Maurizio Lorusso e altre persone che lavorano insieme, hanno dato tutti un contributo fondamentale per la riuscita di questi. Allora, ora parliamo di un'altra società di tradizione a Bari, Lan Giulli Bari, che ha un progetto importante per il tennis, ospita, ricordiamo, l'Accademia del Tennis, e anche a livello agonistico, quest'anno disputerà dei campionati importanti, e lo farà addirittura schierando la Garbine, che è una delle giocatrici più forti, è stata anche una dei più forti, e attualmente anche una dei più forti del panorama italiano. Sentiamo l'intervista alla Garbine. Decisamente una grande stagione per il tennis, Giulli? Assolutamente sì, quest'anno il nostro settore giovanile è andato molto bene, abbiamo avuto due campioni italiani under 14, quindi assolutamente una stagione positiva per il tennis, Giulli. E poi la grande scommessa è la Serie C? Esatto, quest'anno ho voluto assolutamente partecipare, far parte di questo gruppo, perché ho sposato questo progetto, che è poi quello di far arrivare la società Angiulli poi in Serie B e prossimamente in Serie A. Quindi la Giulli scommette sulle donne? Eh sì, speriamo di sì, quest'anno abbiamo la squadra maschile che è in Serie A2 e vogliamo portare anche quella femminile all'apice del tennis italiano. Un commento su questa stagione Angiulli che sta dando ottimi risultati? Sì, è un progetto che ormai dura da tre anni, quest'anno ritorniamo a disputare il campionato di Serie A2 maschile con molte molte velleità rispetto all'anno scorso e ci siamo rinforzati e adesso parte anche il progetto della C femminile e puntiamo diritti alla Serie A nel giro di due o tre anni. Che cosa possiamo dire invece sulle giovani promesse? Ma sono veramente già delle certezze perché abbiamo la ragazza la ragazzina Martina Zerulo che è già campionessa d'Italia per tre volte per tre anni consecutivi poi ci sono altre ragazze che promettono molto bene insieme a Tatiana Garbin sicuramente cresceranno.